Sciupa malamente quest'occasione Gerard Pato Corsa Testa La palla colpisce Il Liverpool ha segnato Giro di precisione Sul quale il portiere non ha potuto nulla Ci vogliono dei piedi come i suoi Per fare queste cose Fabio Riesce a trovare lo spazio buono Pato E dentro in rete Gol La piazzata con precisione assoluta Con la palla può fare davvero Tutto quello che vuole Gerard In effetto un contrasto E solo Liverpool in zona d'attacco Vediamo il tiro Attenzione Rigore per il Liverpool Attenzione Gol Ha mantenuto la freddezza necessaria E ha trasformato Si un rigore per Carroll Grande opportunità Pericolo Liverpool Provo a sorprendere il portiere Non trovo la porta Pericolo a sorprendere il portiere Con l'ascivita Pericolo a sorprendere il portiere Grazie.